Allora, io non sono razzista, però c'è un momento terribile nel quale io di colpo mi rendo conto che quel nero, quella persona di colore che io mi ero portato in casa, al quale io avevo dato veramente le chiavi del mio cuore, io ricevevo amici, lui parlava, mi raccontava le cose, raccontava tutto, era veramente uno veramente ben accetto in casa nostra, infatti dicevo non sono razzista per niente, anzi di colpo scopro per incidente, ed è uno dei momenti peggiori della mia vita, scopro che questo signore di colore in realtà aveva un secondo fine, puntava a mia figlia, puntava a mia figlia e deve avere fatto un sortilegio, una bambina deve avere ingannata al punto, deve avere infilato delle cose nel suo cervello usando la magia, la stregoneria, le pozioni magiche, via dicendo, tanto che questi addirittura vanno a letto insieme, si sposano in segreto, quindi io trascino questo signore davanti al giudizio dei nobili, del tribunale, del doge e via dicendo, e questo qua, e questo qua si chiama Otello, cosa fa? Dice io mai, mai ho mancato di rispetto, che tra di noi è nato un grande amore, lei ascoltando le storie del mio paese, l'infanzia terribile che ho avuto, le vicissitudini, le mostre, le cose, le avventure, le disavventure incredibili che ho conosciuto nella mia infanzia, poi in battaglia, dicendo, si è innamorata e io mi sono innamorato di lei. Se voi pensate che in qualche modo io l'abbia tirata con l'inganno, qualunque cosa sia, non chiedete a me, chiedete a lei, perché io di lei mi fido ciecamente, la mia vita la metto tranquillamente nelle sue mani, io l'amo, al giorno che non l'amassi più, sarebbe il caos. Per cui questi qua chiedono, la ragazza, testimonio a favore del nero, totalmente conferma la sua versione, dice io l'ascoltavo e ascoltando, mi sono innamorata di questo uomo, che è un generale presso la Serenissima di Venezia per combattere i turchi, perché è un bravissimo guerriero. Hanno bisogno di lui e quindi se lo fanno piacere. Il Doge, la Repubblica di Venezia, se lo fa piacere tantissimo, perché ne ha bisogno per combattere i turchi. Il padre di Sdemona, che si chiama Barbanzio, questo uomo che muore di crepa a cuore, se lo fa piacere, purché questo non entri troppo in casa. Questa è una storia orrenda di gelosia, naturalmente la storia di Otello è prima di tutto una storia di gelosia, però Otello non è nero per caso, naturalmente c'è anche una storia di razzismo intrecciata con questa storia di gelosia, che riguarda tutti i personaggi che stanno intorno e che riguarda naturalmente Otello stesso. La trama è molto semplice, c'è un padre al quale un uomo porta via una figlia e il padre la riguarda. E questo succede all'inizio, succede sempre all'inizio, succede sempre nel primo atto delle pièce di Shakespeare, dove ci sono pochissime madri e tantissimi padri. Shakespeare ha delle famiglie sbilanciate dal fatto che non c'è la mamma e quindi di solito c'è un padre che si deve occupare delle cose d'amore della figlia e quindi è impacciato, non sa come fare e fa dei paciughi. E questo succede naturalmente in Otello, dove la figlia addirittura si va a innamorare di un nero. Succede nel mercante di Venezia, dove Shiloh, che è l'ebreo, ha una figlia che anche si innamora da una persona sbagliata. Succede nel sogno di una notte di mezz'estate, che è proprio il rincorrersi dell'amore. E in Roma Giulietta c'è anche la mamma, lì è tutta una storia diversa, infatti va in una maniera completamente differente. Polonio, il padre della povera Ophelia, che non è un personaggio primario, forse secondario, però ha un altro che ha la figlia che si è andata a innamorare di Amleto, oddio, pasticcio, pasticcio, Otello. Ci sono questi due innamorati, questo amore fortissimo tra questa giovanissima donna e questo condottiero, questo eroe invincibile, perché le tragedie, le tragedie classiche capitano non a personaggi marginali, capitano ai migliori di noi, Otello è il migliore di noi, Edipo è il migliore di noi. Come direbbe Sergio Leone, ci diverte vedere cadere quelli grossi, perché quando cadono fanno tanto rumore. E questa è la regola di Sergio Leone, della regola universale della tragedia. Facciamone cadere uno, Relir, il grande re, facciamone cadere uno grosso, così almeno fa rumore. Otello è grosso, è nero, ma è il migliore di noi. Desdemona si innamora di lui, è odiato perché è nero, questo è importante, però contemporaneamente è rispettato, è un guerriero valoroso, almeno come Macbeth, è fedelissimo alla Repubblica di Venezia, è insostituibile per il doge nel combattere contro i turchi. Ma Desdemona è una ragazzina che si mette in pericolo, lui si innamora di Desdemona. Di cosa si innamora? Si innamora del fatto che Desdemona si innamora di lui, che storia c'è. Ha una coppia strana, alcuni commentatori, alcuni critici dicono che è una coppia fatta apposta per la tragedia, che proprio si sono scelti male, che proprio non avrebbero dovuto al di là di Iago, che tra un pochino arriva. Non avrebbero dovuto perché si sono messi insieme evidentemente per le ragioni sbagliate. Desdemona cercava il pericolo, cercava un modo di andare via di casa, cercava di mettersi nei guai scegliendo quello che per tutti quanti intorno a lei era una persona sbagliata, chissà quante volte ci ha pensato durante lo svolgersi della tragedia, ma chi me l'ha fatto fare? E Otello, ma chi gliel'ha fatto fare mettere le mani sulla donna bianca? Nel senso che si è innamorato del fatto che lei si fosse innamorata di lui, nel senso è razzista Otello? Ce l'ha con se stesso per il fatto di essere negro? Ha bisogno di essere lavato dall'onta del fatto di essere nero che lui vede negli altri, che è il motivo per cui è guardato con sospetto, che deve continuamente essere accettato per un altro motivo, in quanto guerriero valoroso, in quanto ospite che intrattiene, ma non di default. oppure crediamo che loro sia un grandissimo amore, che davvero fossero fatti l'uno per l'altro ma certo la macchina del destino si stringe intorno a loro per far andare tutto quanto male come è fatta questa macchina del destino? È fatta in un modo molto strano nel senso che c'è un qualsiasi Roderigo che è uno spasimante di Desdemona ma la sua unica qualità è di essere ricco e di essere stupido è uno che pensa di poter avere tutto quanto che ha i soldi, in questo caso anche Desdemona c'è uno che lo gabba, che è Iago, che è l'alfiere di Otello e secondo Iago nella sua testa il ruolo di luogotenente, di tenente è stato dato ingiustamente a Cassio mentre l'avrebbe meritato lui, Iago, l'alfiere di Otello per cui ha eroso dall'invidia e dall'ingiustizia e quindi dal razzismo quindi viene forza tutto questo, Iago decide di rovinare la vita a Otello servendosi di Roderigo e dei suoi soldi mentre Iago sta ingannando sostanzialmente Roderigo facendogli credere che con i suoi soldi riuscirà ad avere Desdemona perché tanto Desdemona si è fatta una scemenza come innamorarsi del nero vuol dire che potrà fare una quantità di scemenze e altre Iago scommette contro la solidità di questo amore con la stessa forza con la quale Otello invece scommette sulla sua solidità Iago c'è una macchina del destino lì acquattata poi ne arriva un'altra, arriva il fatto che stanno arrivando i turchi proprio mentre Brabanzio porta Otello davanti al giudizio del dojo c'è la minaccia dei turchi per cui la pratica viene archiviata anche abbastanza in fretta perché la Repubblica di Venezia ha bisogno di Otello per sconfiggere i turchi per cui l'azione si sposta da Venezia a Cipro partono tutti quanti insieme appassionatamente Otello, Desdemona, quella Caronia di Iago, Roderigo e Cassio che per il momento non ha ancora fatto azione ma presto la farà e arrivano a Cipro tutti quanti insieme dove nel frattempo c'è stata una tempesta ovvero il destino ha tolto dai personaggi i turchi i turchi sono stati spazzati via dalla tempesta non c'è stato neanche bisogno di combattere per cui adesso siamo lontano dal dojo lontano da Brabanzio, dal padre di Desdemona lontano da qualunque possibile amica di Desdemona c'è soltanto la tontolotta di Emilia, la moglie di Iago siamo in un contesto militare, Desdemona cercava il pericolo, cercava l'uomo nero cercava la compagnia degli uomini e finita tre militari vive in caserma in una zona di guerra dove per il momento non c'è la guerra Iago nel frattempo sta diventando il male Iago che cosa fa? Iago che cosa c'ha nella testa? questo è il grande problema di Otello il protagonista è Otello, il protagonista è indiscutibilmente Otello che è l'eroe che cadrà Otello ha cominciato la tragedia dicendo io amo Desdemona il giorno che non amassi più sarebbe il caos e adesso noi vogliamo vedere il caos vogliamo vedere come sarà questo caos e questo caos arriverà Iago si metterà a fare proprio la cosa più difficile si dà il compito più difficile perché a Shakespeare piace il teatro per cui non dà ai personaggi compiti facili gli dà i compiti più difficili possibili da svolgere se la fiducia perché Otello mette proprio la testa nelle mani di Desdemona all'inizio della faccenda dice chiedete a lei io mi fido se la fiducia tra Otello e Desdemona è incrollabile è proprio quello che Iago dovrà andare a minare per distruggere completamente Otello che è il suo nemico e quindi noi assistiamo a questa tragedia dove per quasi tutto il tempo Iago cerca di infilare il verme della gelosia nel cervello di Otello lo fa usando gli strumenti che ha a disposizione lo fa servendosi dei soldi di Roderigo lo fa cercando di far credere a Otello che Desdemona abbia una storia con Cassio che è quell'altra persona che lui vuole distruggere perché nella sua testa gli ha preso il posto nel cuore di Otello e nella milizia veneziana quando finalmente sono arrivati a Cipro Iago sa che Cassio non regge l'alcol quindi lo fa bere, quindi provoca una rissa quindi facendo una rissa a Cipro Cassio aggredisce altre persone montane e dicendo fa una figura di merda clamorosa e quindi Otello lo deve punire, lo degrada ritoglie il grado di tenente che aveva ottenuto facendo tanto innervosire Iago e Iago convincerà Cassio al fatto che la debolezza di Otello è il suo amore per Desdemona per cui perorando la sua causa presso Desdemona e chiedendo a Desdemona di perorarla presso il moro lui potrà riavere il posto lui lo fa, Desdemona esegue benissimo e Iago mostra questa cosa a Otello e dice visto come lei si batte per Cassio questa è la prova che sono amanti e poi produrrà altro intreccio col fazzoletto facendo un solito giro di pegni d'amore con grande inganno ci riuscirà e Otello si farà completamente invadere dal germe della gelosia e quindi non potrà più fidarsi di Desdemona non potrà più chiedere a lei conto della faccenda e andranno verso una fine tragica il teatro fa ridere in quanto teatro il dramma fa ridere in quanto succede qualcosa di vero quando succede qualcosa di vero questo qualcosa di vero che succede ci modifica il respiro ci sorprende è la sorpresa al farci sorprendere il far entrare delle persone nella nostra vita farle vedere, fare brutte figure al nostro posto il teatro è il luogo sacro delle brutte figure il teatro vediamo personaggi fare delle brutte figure avere un'aspettativa e trovare la loro aspettativa completamente delusa fare dei pasticci per cui il teatro fa ridere se il teatro è vivo fa ridere perché la vita è buffa per cui Otello fa molto ridere ahimè per qualche strana ragione un po' birichina ci fanno ridere le corna e in Otello si parla di corna finte, non vere ma si parla di corna e tutte le lunghe scene la maggior parte del corpo grande di Otello è un dramma a due tra Iago e Otello tra Iago che dice ma tu ti fidi di lei? se ti fidi non ho niente da dire allora perché? che cosa stai insinuando? c'è qualcosa che mi vorresti dire e non mi stai dicendo? no, no, niente niente? niente allora perché sospirato? sospirato? no, no, sospirato e si basa il mettere il germe della gelosia si basa essenzialmente su questa specie di gag comica che dura per tutto il corpo centrale della faccenda per cui ha una tragedia basata su una commedia il meccanismo che innesca la tragedia è un meccanismo comico tant'è vero che assomiglia molto quello che Iago fa nei confronti di Otello a una burla andare da uno e fargli credere che è cornuto perché? per ridere di lui per umiliarlo per vedere uno grande che cade nella tempesta dei suoi nervi la particolarità di Otello è che questa burla questo meccanismo da commedia plautina invece genera una tragedia orribile che alla fine ci muove a una pietà tremenda perché Iago si fa prendere la mano Iago è un personaggio molto strano per noi è una specie di incarnazione del male non sappiamo Iago quando sceglie il male l'unico dentro la tragedia a pensare di meritare il ruolo di tenente e dall'alto della sua mediocrità dice che odia il moro e ogni volta si dice che odia il moro per un motivo diverso vorrebbe essere come lui che odia il moro perché ha scelto Cassio al suo posto poi si dice che odia il moro perché lui vorrebbe il desdemono poi si dice che lui odia il moro naturalmente perché è nero quando uno aduce più di un motivo per una cosa quei motivi non sono mai quelli giusti uno fa una cosa per un motivo l'ordine è drammatico ma l'ordine della vita l'ordine delle cose chiede che noi facciamo le cose per un motivo se sono due o tre sono sicuramente scuse sono sicuramente balle odia per odiare si nutre di questo come gli hater il suo mestiere la sua realizzazione la natura del suo essere lui dice I am not what I am io non sono quello che so la natura del suo essere è odiare e quindi lui non si fermerà si autodefinisce attraverso questo ma non lo sa neanche lui credo che inizi sta cosa in una maniera un po' casuale ma poi sente l'odore del sangue nel suo caso dell'odio non sappiamo qual è il motivo del male ci immaginiamo che abbia una causa nel caso di Iago la causa del male è il male oppure diventa il male questo non lo so quella faccenda direi che gli scappa di mano completamente intanto è vero che lui non ammazza quasi nessuno del suo pugno all'inizio li tira tutti quanti dentro una spirale di male di un male che viene dalla banalità è un personaggio mediocre l'unica cosa che sa fare molto bene è il male per talento e quindi quello fa e dentro questa spirale porta tutti quanti si chiudono piano piano tutte le porte del bene tutte le porte della ragionevolezza che possono avere gli altri personaggi danno ognuno il peggio di sé vicino a Iago Emilia sua moglie terribilmente scenica Desdemona si trova messa di colpo dentro l'incomprensibile dentro l'incomprensibile non c'è nessuno intorno a lei disponibile ad aiutarla a comprendere l'incomprensibile e Otello si trova a diventare il suo killer l'esecutore del suo destino ascoltando semplicemente il male senza nessuna falsa prova importante se non la vicinanza con il male si troverà a strangolare la povera Desdemona che muore due volte in una maniera orribile prima la strangola la soffoca poi lei si riprende e poi rimuore a questo punto finalmente Otello si accorge del male che ha fatto e si toglie la vita al termine di un monologo dal quale si capisce che ha capito di essere tanto toccato dal male ma non ha capito niente di sé è un eroe tragico che attraverso la tragedia non impara nulla di sé in grado soltanto di fare un'analogia tra lui e un altro malvagio mentre Iago curiosamente che è stato un grande chiacchierone per tutta la tragedia quando finalmente il dramma si compie decide decide di tacere sta zitto quando il male ha avuto tutto il sangue di cui ha bisogno si dice si dice pago all'inferno per carità però non ha più niente da aggiungere e si tace